Il Tribunale di Santa Maria Capoavetere ha prosciolto l'ex sindaco di Castelvolturno Antonio Scalzone e l'ex vice sindaco Lorenzo Marcello, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. I fatti risalgono alla precedente amministrazione del Comune Campano, quando i due avrebbero avallato la costruzione di opere pubbliche del centro commerciale Jolie, edifici che sarebbero stati realizzati consentendo un incende guadagno da parte della criminalità organizzata. Tuttavia l'ultimo verdetto della giustizia ha stabilito che il fatto non sussiste e che dunque nessuna infiltrazione camorristica sia avvenuta durante il periodo preso in esame. Caduta infine anche l'accusa di corruzione e di appoggio elettorale a Francesco Nuzzo dal clan dei Casalesi, un punto sul quale si è ripetutamente espressa anche la difesa sostenendo l'assenza di prove dei rapporti tra Antonio Scalzone e la criminalità organizzata. Vanificate dunque le richieste da parte dei PM che avevano invocato una condanna a sette anni di reclusione per l'ex vice sindaco Lorenzo Marcello.